buona domenica eccomi insieme a musicosophy che è già operativo parigi no roma torino verona 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 l'arena di verona mi sembra riana di verona no sbagliato colosseo direttamente dalla maratona di roma michele oggi che giorno abbiamo oggi che 17 marzo 17 marzo mi chiede la regia di sì e questa è la maratona fanno 50 giri del colosseo di là non ci fanno passare ma stanno pure dentro il colosseo il primo video è andato